Nel 2023 è stato registrato l'ottobre più caldo di sempre, questo secondo le ultime informazioni di Copernicus, il servizio europeo per i dati climatici, il che fa presagire che il 2023 raggiungerà un nuovo picco come anno più caldo. La temperatura è stata più alta di 0,4 gradi centigradi rispetto allo scorso record che si era tenuto nel 2019. Nonostante le forti piogge in alcune zone d'Europa si sono registrate temperature elevate e persino incendi. Gli impatti reali del cambiamento climatico si fanno già sentire con un calo della produzione di olio di oliva tra gli effetti più evidenti sull'agricoltura. Invece un nuovo rapporto delle Nazioni Unite rivela che nei prossimi anni i principali paesi produttori di petrolio, gas e carbone intendono estrarre più del doppio della quantità di combustibili fossili raccomandata dall'Accordo di Parigi sul clima. La carta mira a mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi celsius. Grazie a tutti.